Minacce a magistrato Tommasina Cotroneo a Reggio Calabria Minacce al giudice Tommasina Cotroneo, capo della sezione Jeep Gup di Reggio Calabria. Un proiettile di fucile già esploso è stato trovato nell'androne del palazzo in cui abita il magistrato. Di lato al proiettile ignoti avrebbero lasciato anche una fotografia del giudice con una croce disegnata. Lanciato l'allarme dagli agenti di scorta del magistrato, sul posto sono intervenuti la squadra mobile di Reggio Calabria e gli esperti della scientifica che hanno eseguito i rilievi. Tommasina Cotroneo, nelle settimane scorse, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per numerosi esponenti della cosca De Stefano coinvolti nell'operazione Malefix. Sulle minacce di ieri sera sta indagando la procura di Catanzaro, competente sui procedimenti in cui sono parte offesa i magistrati reggini. Solidarietà al giudice Tommasina Cotroneo per le minacce subite e stata espressa dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, secondo cui, quanto è accaduto, ha il significato di un pesante attacco non solo al singolo giudice e dai colleghi del suo ufficio, ma all'intera giurisdizione del distretto di Reggio Calabria, in un momento in cui sempre più efficace risulta il contrasto alla criminalità organizzata di stampo dranghetista. Sono sicuro, ha aggiunto Bombardieri, che la Presidente, così come i giudici della sua sezione e tutti i magistrati di Reggio Calabria, non si faranno minimamente intimidire dalle vigliacche minacce portate avanti nell'ombra. Spara e uccide a Roma il vicino di casa arrestato un giovane di Sorianello. Indagini a tutto campo da parte dei Carabinieri per risalire al movente dell'omicidio al Castel di Leva, nell'agro romano di Fabio Catapano, 48 anni. Per il fatto di sangue è stato arrestato Giovanni Nesci, 23 anni di Sorianello, che è stato sentito dal PM di turno della Procura di Roma e, assistito dall'avvocato Giuseppe Orecchio del foro di Vibo Valencia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La stessa Procura di Roma ha quindi affidato l'incarico ad un medico legale per procedere all'esame autoptico. Giovanni Nesci, in bianchino, che da qualche tempo si era trasferito a Castel di Leva, periferia di Roma, occupando unitamente da altri tre calabresi una villetta sfitta, si trovava a cena della vittima insieme ad un amico, quando Marse di Sera, nella cameretta di Nesci, sarebbe stato consumato un furto di cui i calabresi avrebbero accusato Catapano. Poi uccise in strada ieri pomeriggio a colpi di pistola, dopo essere stato chiamato da Nesci ad uscire di casa. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto per la vittima non c'era più nulla da fare. Lo stesso Giovanni Nesci, dopo il fatto di sangue, si è consegnato ai carabinieri confessando il delitto. Per lui l'accusa è quella di omicidio volontario. Una vicenda passionale, secondo Giovanni Nesci, ma gli investigatori non gli credono. L'ho ucciso perché pensava avessi una storia con la compagna, le parole del ragazzo di Sorianello. Rinascita Scott, la Cassazione, torna libero l'ufficiale Naselli. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'annullamento senza rinvio di tutti i reati per i quali era stato arrestato il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, ex comandante del reparto operativo di Catanzaro, disponendone l'immediata liberazione. Naselli, difeso dagli avvocati Giuseppe Fonte e Gennaro Lettieri, era stato arrestato nel dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott con l'accusa di violazione di segreto d'ufficio. Termina qui la vicenda cautelare e probabilmente anche processuale, commenta l'avvocato Fonte in una nota, del colonnello Naselli. La decisione di annullamento senza rinvio adottata dalla Suprema Corte nel caso di specie, anche in assenza di deposito della motivazione, è indicativa dalla insussistenza giuridica dei fatti contestati al Naselli. È molto triste la presa d'atto che, per aver ragione sulla illegittima privazione della libertà di un uomo, si sia dovuto ricorrere alla Corte di Cassazione. La soluzione giuridica della vicenda cautelare di Naselli era infatti già stata dalla difesa sostenuta ed esposta nelle fasi di merito con la stessa chiarezza ma senza alcun successo. Si tratta di un fatto molto grave. L'ingiusta sottoposizione a custodia cautelare di un uomo dovrebbe essere, in uno stato di diritto, l'eccezione. Casi come quello del colonnello Naselli dovrebbero far riflettere, non poco, la nostra giurisdizione di merito. Daniela Maiolo, per Tele Ionio. La mezza sorvegliato speciale guidava in centro, condannato a nove mesi. Nel pieno dell'emergenza sanitaria, lo scorso 21 marzo, Avvi era stato fermato dai carabinieri nell'ambito dei quotidiani servizi di vigilanza sul rispetto delle misure volte a prevenire il contagio da Covid-19 alla guida della sua auto, in centro, insieme alla fidanzata, nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale dopo essere stato coinvolto nell'operazione per sé o con l'accusa di associazione di tipo mafioso. Successivamente il GIP aveva applicato l'obbligo di dimora e nei giorni scorsi si è svolto il giudizio direttissimo al Tribunale di La Mezza Terme, che ha riconosciuto le attenuanti generiche e condannato l'uomo a nove mesi di reclusione. L'imputato, assistito dall'avvocato Pasquale Naccarato del Foro di Cosenza, ha ammesso l'addebito sostenendo nel corso dell'interrogatorio svolto in udienza, che era fuori per ragioni strettamente personali con la compagna, la quale ha fornito in udienza la sua stessa versione dei fatti. L'uomo ha spiegato che il suo guidare senza patente era dovuto ad uno stato di emergenza familiare. Il legale annuncia che sarà proposto appello contro la condanna. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Coronavirus, sei nuovi casi a Cosenza legati alla bimba contagiata, individuato, paziente zero. Ci sono altre sei persone positive al coronavirus a Cosenza, tutti appartenenti alla comunità senegalese e integrata da anni in città. Gli oltre 50 tamponi effettuati dalla Task Force dell'Asp di Cosenza hanno dato esito positivo per 5 adulti e un'altra bambina. Tutti i soggetti sono asintomatici e in isolamento domiciliare. Sono dunque 15 i casi totali legati al focolaio scoperto dopo l'accertamento della positività di una bambina di 4 anni che doveva sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. La Task Force è poi riuscita a ricostruire tutta la catena dei contatti e individuare anche il paziente zero. Si tratta di un uomo rientrato dal Senegal dove avrebbe contratto il virus. Comune, Maida Covid Free, tutti negativi i 221 test sierologici effettuati. Maida, Comune Covid Free, lo certificano i test sierologici, informano dal Comune, a cui si sono sottoposti nei giorni scorsi i commercianti e molti cittadini, grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Paone e l'associazione Adis di Cosenza. Gli operatori commerciali hanno avuto la possibilità di sottoporsi gratuitamente a test sierologici e tanti sono stati i cittadini che hanno voluto utilizzare questo momento di prevenzione per verificare il proprio stato di salute. Sono stati effettuati i 221 test, tra questi sono 171 quelli offerti dall'amministrazione comunale. L'iniziativa è stata coordinata dagli amministratori Monica Loe, Sabrina Fiumara e Marianna Pettinato. Il test ha registrato l'adesione di quasi tutti gli operatori e anche di diversi cittadini che hanno voluto accertarsi del proprio grado di esposizione al virus. I risultati sono stati importanti, afferma il vice sindaco e responsabile sanità Monica Loe. Infatti sono stati tutti negativi, certificando in questo modo che Maida è un Comune Covid Free. Toro infuriato scappa da Circo e si aggira per Pellaro di Reggio, abbattuto. Alla sala operativa della Polizia di Stato nei giorni scorsi è giunta una segnalazione di un toro imbizzarrito che si aggirava nel quartiere San Filippo di Pellaro. Con il coordinamento della sala operativa si è immediatamente predisposto un servizio Interforce con l'ausilio di altri enti pubblici competenti per la circostanza, finalizzato alla ricerca dell'animale per evitare conseguenze pericolose agli abitanti della zona e della popolosa e vicino a località Pellaro di Reggio Calabria. Sul posto, oltre agli agenti delle volanti della Polizia di Stato, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Municipale, un veterinario dell'ASP di Reggio Calabria e la Polizia Metropolitana per sedale l'animale al momento dell'individuazione. Le ricerche sono state estese anche ai terreni circostanti il quartiere San Filippo con l'ausilio di un elicottero del quinto reparto volo di Reggio Calabria. Dai primi accertamenti si è appreso che l'animale era scappato da un circo che si trovava di passaggio in quella località per effettuare dei rifornimenti di cibo per gli animali. Le operazioni predisposte per l'inchiesta Passepartout il 24 luglio si deciderà sul processo ad Oliverio ed Occhiuto. Il PM della Procura di Catanzaro ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex governatore della Calabria Mario Oliverio e del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto coinvolti nell'inchiesta Passepartout su presunte irregolarità in alcuni appalti a Cosenza tra i quali quello della metropolitana leggera Cosenza Rende e per la realizzazione del nuovo ospedale. Nel corso dell'udienza davanti al GUP il PM Graziella Viscomi ha chiesto il non luogo a procedere per quanto riguarda il reato di associazione per delinquere nei confronti di tutti gli imputati a cui era contestato. Nell'inchiesta sono coinvolti anche l'ex assessore e consigliere regionale del PD Nicola Adamo, il segretario regionale del Partito Socialista Italiano Luigi Incarnato, oltre a dirigenti regionali, tecnici ed imprenditori. Alcuni degli imputati hanno chiesto il rito abbreviato e per il processo inizierà davanti al GUP il prossimo 23 ottobre. Per tutti gli altri, tra i quali Oliverio, Occhiuto, Adamo e Incarnato, il GUP deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio il 24 luglio prossimo. Il clan Cordì, padrone del cimitero di Locri. Sei le condanne. Il primo step del processo riscatto mille una notte si è conclusa davanti al GUP distrettuale di Reggio Calabria, Tommasina Cotroneo, che ha combinato in rito abbreviato condanne per complessivi 35 anni di reclusione agli imputati. Lo riporta la Gazzetta del Sud. Le pene vanno da un minimo di 16 mesi per Domenico Schirippa, sospesa, a un massimo di 10 anni e 8 mesi per Domenico Cordì, classe 1991. È stato riconosciuto il risarcimento dei danni per le parti civili che erano Regione Calabria, Comune di Locri e un soggetto privato. Queste le condanne. Gianfranco Ali, 4 anni e 8 mesi. Antonio Cordì, classe 97, 4 anni. Domenico Cordì, classe 91, 10 anni e 8 mesi. Vincenzo Cordì, classe 57, 6 anni. Bruno Zucco, classe 68, 8 anni e 4 mesi. E Domenico Schirippa, 16 mesi, pena poi sospesa. L'inchiesta ha illuminato la capacità della Cosca Cordì di infiltrarsi nelle attività legate ai servizi funebri del cimitero di Locri, dalla vendita dei fiori all'edilizia, fino all'organizzazione dei funerali. Altri 16 imputati saranno giudicati con il rito ordinario. Daniela Maiolo, per Teleionio. Serra esegue una costruzione in cemento armato, denunciato un 31enne. Nell'ambito dei servizi predisposti dal gruppo Carabinieri Forestali di Vibo Valentia, mirati in particolare alla prevenzione e repressione di reati in danno all'ambiente, con specifico riferimento al contrasto dell'abusivismo edilizio, militari della stazione Carabinieri Forestali di Serra San Bruno, al termine degli accertamenti eseguiti in località a guido del comune di Serra San Bruno, alla via Nicolas Green, coadiuvati da personale dell'ufficio tecnico comunale e della polizia locale, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un 31enne abitante del luogo, che in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo all'interno di un terreno di sua proprietà aveva eseguito lavori per la realizzazione di un manufatto in cemento armato con muratura in laterizi. L'immobile su una superficie complessiva di circa 111 metri quadri è risultato in corso di completamento. La struttura dal valore di mercato di circa 77 mila euro è stata sottoposta a sequestro penale ed irresponsabile segnalato alla competente autorità giudiziaria. Rimane elevata la soglia di attenzione dei Carabinieri Forestali sulla tutela del territorio e dell'ambiente, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515. Abusivismo, sequestrato un fabbricato ad Isola Caporizzuto, un fabbricato abusivo in corso di realizzazione in un terreno agricolo di Isola Caporizzuto, è quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali in località vermica della cittadina crotonese. La costruzione è stata posta sotto sequestro, mentre il responsabile dell'abuso, un disoccupato del luogo, è stato deferito alla procura della Repubblica di Crotone per violazione della normativa edilizia. In particolare nel corso di un controllo del territorio, i militari della stazione forestale Crotone hanno notato un fabbricato di recente edificazione non completato all'interno di un terreno agricolo. Gli accertamenti avviati presso l'ufficio comunale competente hanno evidenziato che l'opera era priva di atti d'assegno legittimanti l'esecuzione. Il fabbricato individuato, realizzato in conglomerato cementizio armato con muri di tamponamento e laterizio, misura in piante circa 9 metri per 12 metri, con copertura a tetto. Al momento del sopralluogo non era munito di infissi ed era privo di finiture. Il fabbricato è stato posto sotto sequestro per impedire il proseguimento dell'attività illegale. Il possessore del terreno, un uomo di 54 anni, disoccupato, nato e residente di Isola Caporizzuto, è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia. La costruzione non presenterebbe, secondo i militari intervenuti, i caratteri distributivi funzionali proprio di un deposito agricolo. Il sequestro è stato già convalidato dall'autorità giudiziaria. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Gerocarne, arrestata perché non trovata in casa durante un controllo agli arresti domiciliari. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, durante un preordinato servizio di controllo del territorio e in particolare durante uno dei tanti controlli periodici alle persone sottoposte alle misure di restrizione della libertà personale, si sono recati in contrada torre, agro del comune di Gerocarne, dove hanno constatato che Viola Inzillo, conosciuta dai militari operanti, arrestata nell'ambito dell'operazione Black Window e attualmente in regime di arresti domiciliari, non era presente presso la sua abitazione. I vi giunti, dopo un controllo all'esterno dell'immobile, i militari hanno notato la Inzillo passeggiare in un terreno circostante, non confinante con la sua abitazione e non di sua proprietà. La donna quindi, senza dare spiegazioni nel merito, in considerazione del fatto che la stessa è stata già denunciata ed arrestata in flagranza di reato per il reato di evasione in altre circostanze, l'ultima risale all'inizio del mese di giugno 2020, è stata tratta nuovamente in arresto per il reato di evasione. L'arresto è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria di Vibo Valencia. Daniela Maiolo per Teleionio. Tensioni a Catanzaro su un bus di linea, volano insulti razzisti. È diventato virale il video pubblicato sui social che è immortale a un momento di tensione avvenuto su un bus della AMC che copre la tratta quartiere Stadio Terminal di località Giovino su Viale Cassiodoro nel quartiere Santa Maria. Protagonisti della vicenda, alcuni passeggeri che non se ne conoscono al momento le motivazioni, si sono lasciati andare a frasi ingiuriose e razziste nei confronti di altri due viaggiatori presumibilmente extracomunitari. Secondo quanto si è appreso, il mezzo si è fermato all'inizio dei disordini e lo stesso conducente era intervenuto per sedare gli animi, prima di chiamare la polizia che poi è intervenuta. Gizzeria, controlli serrati dei carabinieri e sei persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. Sei persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e altre tante patenti di guida ritirate. Questo il bilancio di due servizi di controllo sul territorio attivati dal comando stazione dei carabinieri di Gizzeria, insieme ad altri colleghi del territorio e al nucleo radiomobile di la mezzia terme. In particolare i controlli dei militari sono stati effettuati nelle zone della costa tirrenica di Gizzeria e in località Pesceanguille, dove si concentrano alcune delle discoteche più frequentate del territorio, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. In tutto sono stati oltre 200 i controlli effettuati dai carabinieri attraverso l'etilometro. La mezzia viaggiava con 300 grammi di cocaina nascosti nell'auto arrestato un 35enne. Viaggiava con un panetto di cocaina che aveva ben nascosto nel portaoggetti dell'auto. Un 35enne è stato pertanto arrestato dai militari del comando provinciale di Catanzaro dalla Guardia di Finanza, nel quadro di un rinnovato dispositivo di controllo economico del territorio rivolto anche alla prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. A cadere nella rete delle fiamme gialle lamettine PM di 35 anni di lamezzia terme. I controlli sono stati operati a San Biase, dove i finanzieri hanno intimato l'alt diritto al 35enne che viaggiava alla guida di una Fiat Panda presa in noleggio. Al momento del controllo il conducente risultato sprovvisto dei documenti di guida e di identificazione e palesava evidenti segni di agitazione che non sfuggivano ai militari, i quali approfondivano le ricerche sul mezzo con l'ausilio dell'unità cinofile. Hanno trovato 300 grammi di cocaina. Per giungere al rinvenimento della droga, le fiamme gialle del gruppo di lamezzia terme hanno dovuto procedere allo smontaggio di parte del cruscotto del mezzo, in quanto il panetto era stato abilmente occultato all'interno di un'intercapedine ricavata sul retro del vano portaoggetti del veicolo. All'esito di tale rinvenimento è stata immediatamente effettuata una perquisizione presso l'abitazione di PM, dove sono stati rinvenuti altri 1,6 grammi di marijuana. Sono scattate quindi le manette per il giovane ramettino, il quale è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro. Il GIP di lamezzia, ritenendo sussistenti le ipotesi delittuose, ha convalidato gli atti di polizia giudiziaria e disposto la custodia in carcere. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabraro. Tropea sorpresa a spacciare marijuana in centro, posto ai domiciliari. Facciava marijuana in pieno centro a Tropea, ma i carabinieri della locale compagnia lo hanno sorpreso e arrestato. In manette è quindi finito un uomo di 49 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari, insospettiti dalla presenza del soggetto nel centro storico di Tropea, meta di forte attrazione turistica, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, trovandolo in possesso di 180 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana divisa in più involucri. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Spaccio di droga davanti alle scuole, quattro arresti nel Cosentino. Spacciavano droga davanti alle scuole medie ed elementari e attraverso una capillare rete di smercio portavano gli stupefacenti a clienti giovanissimi, anche minorenni. Questa mattina, cariati in provincia di Cosenza, i carabinieri del comando provinciale di Cosenza, con il supporto dei colleghi delle compagnie di Genova, San Pierdarena e San Severo e con l'ausilio dello squadrone cacciatori Carabinieri Calabria e del nucleo cinofili di Vibo Valencia, hanno condotto un'operazione antidroga eseguendo un'ordinanza dispositiva di misure cautelari nei confronti di quattro persone, una donna che era al centro di un'organizzazione e tre uomini, indagate in ordine al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La donna e uno degli indagati sono finiti in carcere, mentre per altre due persone, marito e figlio della donna, è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Cosenza e Crotone. Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari è l'epilogo di indagini condotte dai militari del comando stazione Carabinieri di Cariati, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica Mauro Gallone e diretti dal procuratore della Repubblica facente funzione Simona Manera. Lorena Pallotta per Teleionio. Mariuana nascosta in una radio d'epoca una denuncia a Valle Fiorita. Perquisizioni personali e domiciliari in materie di stupefacenti nell'ambito di Valle Fiorita sono state eseguite dai carabinieri di Squillace. La serie di perquisizioni nasce da plurime segnalazioni di movimenti sospetti in diversi luoghi del paese sintomatici come poi è stato dimostrato da attività di spaccio. Il primo controllo nell'abitazione in alcuni locali commerciali riconducibili ad un 57enne hanno portato al rinvenimento di una dose di cocaina per cui l'uomo è stato segnalato alla prefettura di Catanzaro quale assuntore di sostanze stupefacenti e di una dose di mariuana di cui il nipote dell'uomo, un 19enne, si è assunto la paternità e per il quale è scattata la segnalazione quale assuntore. Ben diverso invece il risultato della perquisizione nell'abitazione di una donna 49enne, SC, peraltro già nota per precedenti specifici. All'interno di una radio d'epoca il fiuto dell'unità cinofila Black ha segnalato la presenza di stupefacente. Aperta la radio sono emersi circa 46 grammi di mariuana. Per la donna è quindi scattato il deferimento dell'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Aiello si dimette dal comitato di indirizzo della ZES. L'economista e docente dell'Università della Calabria, Francesco Aiello, si è dimesso dal comitato di indirizzo della zona economica speciale della Calabria. In una lettera inviata al ministro dell'infrastruttura e dei trasporti, Paola De Micheli, Aiello scrive di una decisione lunga e sofferta, perché so che la sfida dello sviluppo si gioca soprattutto a Gioia Tauro. Tuttavia l'enfasi intermittente che dal governo Gentiloni in poi si è data alla ZES non ha prodotto molto, scrive Aiello, tant'è che nella sostanza delle cose la ZES rappresentano ad oggi l'ennesima incompiuta del nostro paese. I motivi sono molteplici. Qui e dopo menzionare l'indefinita governance della ZES. Al momento, così come oggi strutturato, il comitato di indirizzo è inutile, in quanto non svolge alcun ruolo di grado di incidere a favore della modernizzazione industriale delle aree ZES. Credo anche che la proposta del governo di nominare un commissario straordinario a capo del comitato sia di dubbio opportunità ed utilità. In assenza, scrive ancora il docente Unical, di una radicale rivisitazione del ruolo e delle funzioni del comitato di indirizzo, la figura del commissario sarà destinata, a mio parere, al fallimento. Agliello sottolinea poi che a Gioia Tauro la priorità della priorità è di mettere in sicurezza l'intera area ed è imbarazzante osservare che dopo anni dell'istituzione della ZES non si è fatto alcunché a riguardo. L'unico risultato conseguito è la stessura di un regolamento dei criteri per accedere al credito d'imposta, dice l'economista, ma il ricorso alla fiscalità di vantaggio è stato nullo, a dimostrazione che essa rappresenta una condizione forse necessaria, ma certamente non sufficiente per attrarre capitali e creare sviluppo. Daniela Maiolo per Teleionio. Serra verso le comunali, ci conte, mangia lavori, appoggia la nostra lista, non sarò io il candidato a sindaco. Di ufficiale per ora c'è solo il decreto firmato dal ministro dell'interno Luciano Lamorgese che fissa per il 20 e 21 settembre prossimi la data delle prossime elezioni amministrative. Intanto a Serra tra i comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, al di là dell'apparente cristallizzazione dal punto di vista della formazione degli schieramenti, i vari gruppi in campo continuano ad essere in fermento. Nella puntata di Noiché, trasmissione in onda su Radio Serra 98, Michele Ciconte, esponente di Forza Italia, molto vicino al senatore Giuseppe Mangialavori, ha ribadito che non sarà lui il candidato a sindaco della coalizione liberale moderata, riunita con lo slogan Lavoriamo insieme per Serra. Ma nonostante la matrice civica del progetto della terza lista, nel corso del programma radiofonico condotto da Daniela Maiolo, con la partecipazione del direttore del bizzarro Sergio Pelaia, Ciconte ha anche dichiarato, circostanza finora inedita, che tale coalizione potrà contare sull'appoggio proprio di Mangialavori, che sarebbe stato coinvolto dai forzisti serresi anche nella fase preliminare alla formazione del gruppo. Un gruppo che riconosce dunque un ruolo peculiare alle forze partitiche, tant'è che oltre al sostegno di Mangialavori sul progetto ci sarebbe anche l'imprimatur dei vertici regionali di Fratelli d'Italia, anche per via del rapporto diretto tra l'ex sindaco Bruno Rossi, anche lui tra i promotori del progetto, e la senatrice Vandaferro. Non secondario inoltre il legame al centrodestra regionale di altri pilastri della costruenda lista come Walter Lagrotteria e Pino Raffaele, vicini alle posizioni del presidente del Consiglio regionale Mimmo Tallini, esponente di primo piano di Forza Italia. Dunque sono ufficialmente tre gli schieramenti in campo, il movimento liberamente guidato da Alfredo Barillari, quello espressione dell'amministrazione uscente fondato sull'alleanza Censore-Salerno, che ha scelto Antonio Procopio come candidato a primo cittadino, e il gruppo Lavoriamo Insieme per Serra, in larga parte formato da esponenti di centrodestra, ma che ha accolto al suo interno anche alcuni ex PD, in parte ormai molto vicini a Forza Italia, fuoriusciti dalla maggioranza uscente in aperta polemica con l'ex parlamentare Censore. Il fatto che ancora non abbiamo un candidato a sindaco, ha dettoci Conte ai microfoni di Radio Serra, non è affatto un segnale di incertezza, piuttosto abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sul programma che unisca le varie sensibilità del gruppo. Il candidato a sindaco dovrà essere poi una figura di sintesi e non ho dubbi che lo individueremo senza particolari problemi. A teleproposito l'esponente Forzista ha anche aggiunto che è ancora in atto il dialogo tra il suo gruppo e Vincenzo Damiani, esponente del PD che in un primo momento aveva manifestato dei malumori nei confronti della scelta dell'asse Censore-Salerno. Il programma sarebbe dunque la via maestra per Ciconte, il vero lavoro di rifinitura che possa tenere unite le varie anime anche al fine della governabilità in caso di vittoria. E in tema di programma Ciconte, consapevole della precarietà delle finanze di un comune in predissesto, ha parlato di scelte coraggiose che un'amministrazione dovrà decidere di fare mettendo al centro il ruolo della politica per affrontare temi concreti come la viabilità e la sanità, puntando anche sulla capacità di captare quei finanziamenti che molte volte finiscono per non essere sfruttati. Incalzato su un argomento delicato come quello della pulizia delle liste, Ciconte, pur mantenendo sempre un approccio garantista, ha dichiarato di condividere l'ipotesi di comunicare preventivamente i nomi dei candidati alla prefettura. Libero accesso al wifi negli spazi pubblici, Acquaro ottiene il voucher di 15 mila euro. La Commissione europea ha comunicato al comune di Acquaro di essere risultato tra i vincitori del Bando europeo wifi, un'iniziativa che promuove libero accesso alla connettività wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta Europa. Il comune di Acquaro, risultato tra i vincitori, si è aggiudicato un voucher del valore di 15 mila euro che dovrà essere utilizzato nei prossimi 18 mesi per l'installazione di apparecchiature wifi all'interno di spazi pubblici. La quarta e ultima richiesta wifi per le domande ha avuto luogo dal 3 al 4 giugno 2020. Più di 8.600 comuni in tutta Europa hanno richiesto 947 voucher per un valore di 15 mila euro ciascuno. Con un budget di chiamata di 14,2 milioni di euro, la Commissione distribuirà 947 buoni tra i comuni europei beneficiari per costituire una rete wifi gratuita negli spazi pubblici. La risposta dei comuni è stata impressionante. La Commissione europea ha ricevuto oltre 850 domande nel primo secondo dell'apertura della chiamata e oltre 3 mila nei prime 5 secondi a seguito del successo delle chiamate precedenti. Alla chiusura del periodo di candidatura, il 4 giugno, la Commissione aveva ricevuto oltre 8.600 domande da tutti i Paesi partecipanti su 27.000 comuni registrati. Il numero di domande è superiore a 9 volte la quantità di buoni disponibili. Lo considero, ha affermato il Sindaco Giuseppe Barilaro, un risultato importante e strategico in un'ottica di sviluppo e ammodernamento del nostro Paese. I mesi che verranno daranno il via alla fase 3 del nostro programma di lavoro iniziato nel 2010. I risultati concreti e di fatti rimangono fatti, le parole un non fatto. We Love Catanzaro, un video dedicato a Catanzaro del Rotary Club Catanzaro Trecogli con il patrocinio del Comune. We Love Catanzaro è tutto in questo hashtag il significato del video che il Rotary Club Catanzaro Trecogli ha realizzato in collaborazione con Amazzing Calabria, di Massimo Iannuzzi e con il patrocinio del Comune di Catanzaro. We, che in inglese significa noi, sottolinea il concetto di comunità nella quale operiamo e serviamo al di sopra di ogni interesse personale. Noi catanzaresi siamo invitati a riscoprire ogni giorno la nostra città e le sue peculiarità e accoglierne ogni aspetto con gli occhi di un perenne innamorato. Ha affermato il neopresidente del Rotary Club Catanzaro Trecogli, Luca Provenzano, al lancio del video in occasione della ricorrenza del santo patrono di Catanzaro. Il video è realizzato con il contributo volontario di un professionista delle riprese con drone, ha aggiunto, ci mostra un punto di vista diverso dalla nostra città, evidenziando l'arte, la cultura, le passioni, i sapori che la nostra Catanzaro ci offre. Al preview del video il sindaco Sergio Abramo ha commentato, occorre che Catanzaro sia vissuta in primis dai nostri concittadini, che sono l'anima pulsante di una città con progettualità importanti, compiute o in divenire. Benvengano iniziative di questo genere che permettono di far conoscere la nostra Catanzaro a una più vasta platea, con l'utilizzo di nuove sofisticate tecnologie e diffusione sul web. Esemplare tartaruga caretta caretta depone uova Cassano. Il litorale cassanese si riconferma aria adatta e favorevole per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta. Questa mattina i volontari e gli operatori del centro WWF di Policoro, durante le attività di monitoraggio che svolgono lungo il tratto di costa che va da Corigliano a Villa Piana, hanno rinvenuto sul litorale cassanese una traccia di deposizione di uova da parte di una tartaruga caretta caretta. Il sito è ubicato tra il complesso nautico dei laghi di Sibari e il villaggio turistico di Marina di Sibari. I volontari e gli operatori del WWF, appena individuato la traccia, hanno allertato i referenti dell'area, Salvatore Golia e Roberto Mauro, la guardia costiera di Corigliano e il servizio veterinario locale, insieme ai quali hanno verificato la presenza delle uova. Le uova ci sono, il nido è valido, ha dichiarato Gianluca Cirelli del WWF di Policoro. La schiusa delle uova è prevista per fine agosto, inizi di settembre. Verità e giustizia, a Staletti, il libro a ringa su Monsignor Giuseppe Cognata. Nella splendida cornice di Casa Nazareth, sede dei piccoli missionari della Santissima Trinità, si è tenuta la presentazione del libro di Vito Cesario, un vescovo dei nostri tempi tra oblazione e santità, scritto in ricordo di Monsignor Giuseppe Cognata, già vescovo di Bova, il vescovo spogliato della sua carica nel 1939 all'indomani di un sommario processo tenuto dal Santuzio. Un libro a ringa, scritto dall'autore, avvocato e magistrato onorario, che negli anni ha lottato per restituire piena dignità a Monsignor Cognata, esempio di vera vocazione cristiana. Un vescovo retrocesso a sacerdote, rimasto in silenzioso esilio per 22 anni, fin quando accertate le ingiuste accuse, Papa Giovanni XXIII gli ha restituito la funzione episcopale. Grazie anche all'impegno dell'autore, da pochi giorni Papa Francesco ha avviato la causa di benificazione di Monsignor Giuseppe Cognata. Verità e giustizia, parole sempre pronunciate da Don Giuseppe, parole che hanno accompagnato la vita di un vero testimone della Chiesa di Cristo. Verità e giustizia, parole intorno alle quali si è svolto l'incontro presentato da padre Franco Lio, priore di casa Nazareth e moderato dall'avvocato Giampaolo Stanizzi, in quale ha sottolineato la grande attualità dell'opera di Don Cognata, un figlio di Cristo che, pur consapevole della sua innocenza, mai ha smesso di aiutare gli ultimi, i sofferenti, i più disagiati. Un sacerdote ben lontano da quell'indifferenza verso il prossimo, oggi tanto condannata da Papa Bergoglio. All'incontro hanno mandato messaggi di saluto il vaticanista Enzo Romeo e Madre Graziella Benghini, superiore a generale delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù, la congregazione fondata da Don Giuseppe Cognata. Daniele Maiolo, per Tele Ionio. Nicola De Rosi, nuovo priore e confraternita annunziata di Santa Caterina. Alla luce degli statuti e dei regolamenti elaborati dalla Curia Arcivescovile di Catanzaro Squillace per delineare nella fede i cammini spirituali delle confraternite presenti nel territorio diocesano, anche la confraternita Maria Santissima annunziata, presente nella parrocchia di San Pantaleone Martire, chiesa di San Gabriele Arcangelo di Santa Caterina dell'Oionio Marina in provincia di Catanzaro, ha proceduto alla presenza di un delegato vescovile alla votazione per il rinnovo del seggio priorale. Dalla votazione elettorale sono risultati eletti Nicola De Rosi, priore, Giuseppe Guarna, vicepriore, Pilato Alessio e Salvatore, segretario, Repice Alessandro Cassiere, Bruno Giannini, secondo assistente. La votazione elettorale delle cariche statuarie è stata confermata con decreto arcivescovile emesso l'1 luglio 2020, richiamando gli interessati al massimo impulso dell'azione religiosa e morale propria delle confraternite per la gloria del Signore e per la crescita del culto divino, in particolare della Vergine Maria, madre della Chiesa terrena e celeste. Si rinnova così e per un ulteriore triennio la cattedra priorale di questa confraternita. La confraternita Maria Santissima annunziata è stata fondata nel 1984 per volontà del parroco di quel tempo, insieme ad un gruppo di laici e poi definitivamente accolta e approvata con successivo decreto vescovile del 1987. Inserita nell'ambito della parrocchia di San Pantaleone Martire, oltre a mantenere le tradizioni popolari religiose, è impegnata anche in momenti di formazione spirituale e in collaborazione con il padre spirituale e parte attiva ed integrante di tutto l'ambiente parrocchiale, realizzando anche opere materiali che riguardano i beni della Chiesa e i beni propri della confraternita. Riprendendo anche lo spirito di carità che ha animato l'origine delle stesse, la confraternita accompagna con la preghiera che è in processione l'ultimo salute nella fede di tutti i fedeli defunti. In questi ultimi anni i cammini delle confraternite hanno avuto delle evoluzioni e hanno portato ad unirsi tra di loro per una maggiore crescita spirituale e formativa dei propri e vari cammini di fede.